bella raga ciao a tutti e benvenuti veneziano siamo a vigo ragazzi fly simulator tanti me l'avete chiesto e vi ripropongo fly simulator tappetta veloce di un'oretta scarsissima però noi la facciamo durare un'ora perché cazzeggiamo da vigo a lisbona ragazzi con il nostro airbus a319 della tap put girl proprio veramente una pronuncia comodiana meravigliosa e c'è pioggia moderata fio in quella di vigo traffico e praticamente non c'è mi direi di partire mi ha risparmiato la parte insomma di rollaggio perché una parte del cume fa abbastanza cagate dopo ne faccio anche in volo però nel rollaggio proprio al massimo dai fio in rock and roll e si parte da vigo intanto mi avete chiesto anche come si mettono gli aerei però è veramente facilissimo e trovate io avevo già fatto un video solo mi ricordo dove spiegavo un po però su google trovate veramente veramente tutto e anche trovate tutti gli aerei sui vari siti niente di andare tra poco facciamo v1 e si gode scusate momento di panico ok direi che possiamo anche andare salutiamo la dolce e meravigliosa vigo papà le alberelli di vigo ciao vigo ok perfetto ok ragazzi ci siamo a te pioggia in quel di vigo abbiamo lasciato l'aeroporto piccolino e siamo qua pronti a dominar a dominar ragazzi la grafica c'è senza ad ons veramente un gioco di merda a livello grafico con gli ad ons cambia tutto ok stiamo così siamo in tipica virata come indiana mentre per tanti mi chiedete fly simulator per quanto c'è insomma la pipa nel senso c'è mi rendo conto vedendo tanti video di tanti professionisti però sono contento e il discorso è che sono in un momento ragazzi c'è un po di cose mie insomma personale e tutto quanto quindi diciamo che youtube in questo momento è diciamo che non è nel primo nel secondo pensiero ma è uno degli ultimi perché chiaramente la vita reale è molto più importante e così però è difficile anche avere idee dopo tanti video tante robe non è semplice ragazzi c'è non è semplice discorso delle live non le sto facendo anche per questo perché ho veramente delle cose da sistemare a livello personale quindi anche per quello un po dura due eventi vediamo se esco da qua è sempre impossibile cambiare ok perfetto insomma pioggia in spagna anche in portogallo non è bello è proprio una perturbazione a ovest è un po' curiosa tipica perturbazione cumendiana guarda che roba ragazzi mancano 70 miglia guardate che roba e forse l'otterraggio anche in manuale non capisco perché è di sbona anche pioggia anche in portogallo l'ho detto ragazzi ma guardate la spettacolosità ah sì vabbè insomma le devo andare sì ok devo non mi ricordo neanche le cose bene devo andare a 12.000 piedi ok però vogliamoci un attimo guarda che roba eh fio c'è un atterraggio da brivido guarda che lampo mamma mia che lampo ragazzi fa paura visto di quei lampi vediamo se riusciamo a vederne altri ah che do coglioni però guarda che roba guarda che roba attorno a 2.30 aspetta 2.30 forse per quello non lo so forse il brutto tempo che ne so guarda che roba guarda che roba mi sto buttando giù in picchiata proprio perché voglio andare giù perché ci sono delle turbolenze ragazzi a dir poco curiose mamma mia che roba tempaccio osceno in portogallo hai roba una roba proprio spaventosa ma guarda come si balla ragazzi c'è un tempo lampi tuoni fulmini e saette di tutto praticamente di tutto c'è guardate che roba ormai noi siamo pronti chiaramente ragazzi con la registrazione il lag è un po' più elevato la bellissima lisboa però in tutto il suo splendore ma i lampi sono paurosi fiori paurosi stiamo andando giù si ok l'atterraggio perfetto noi che vogliamo l'atterraggio perfetto adesso vediamo il ponte tipico portugese portugale dell'isboa ho anche l'aeroporto chiaramente quello ufficiale aerosoft x quindi che sbora se lagga un po' ragazzi ci sta è normalissimo non so quelli che non laggano nei video fanno delle robe non so veramente impensabile con tutti gli addons non avere mai problemi vediamo se riusciamo a fare un bel screenshot ecco in realtà arriva quella merda di nuvole vaffanculo però ci siamo siamo dai ci siamo ci siamo e ce la facciamo e ce la facciamo un super come fantastic come fantastic vediamoci sempre anche buono beh dai contanto che ha tutto quanto anche si si va benissimo dai va bene meglio di così non posso fare in registrazione detto che c'è un tempo raga vai che ce la vai vai che ce la vai ci vediamo nessun nessun c'è traffico o no vediamo non mi pare aspetta chiudiamo tutto ok pianino 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 uh vabbè insomma poteva andare peggio poteva andare peggio vai freniamo 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 si si ce la posso fare tranquillamente very good very good come è very very good touch down raga siamo arrivati siamo arrivati raga un saluto del comandone veneziano perché non ha assolutamente voglio di parcheggiare in questo inferno portoghese e niente fiori prossima tappa aspetto commenti ciao 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 ciao